Fattivamente il progetto è un progetto di prossimità, pensato su quattro quartieri, Ballarò, Sperone, Zen, Borgovecchio, un progetto che chiamerà a raccolta le forze fisiche e gli operatori del terzo settore, con l'utilizzo anche della figura di peer educator, cioè di ragazzi che sono riusciti a venire fuori dal dramma della tossicodipendenza, un lavoro di strada che si organizzerà con la figura di questi operatori, utilizzando gli snodi territoriali delle sedi, delle associazioni, che saranno giudicatari ovviamente del prossimo avviso di evidenza pubblica, dall'altro lato un intreccio con il presidio di prossimità dell'unità mobile dell'ASP che si occuperà della parte sanitaria. In ultimo, ma non ultimo, il pezzo che riguarda la scuola e che quindi chiamerà a raccolta per prevenzione, formazione e informazione non solo ai ragazzi ma anche le famiglie. La parola chiave è alleanza per la prevenzione e per l'interdizione di un fenomeno drammatico che impegna certamente la platea sociale, la comunità perché subisce la violenza della droga, ma deve proprio per questo impegnare ancora prima le istituzioni. A seguito degli allarmi dei mesi scorsi la Prefettura ha raccolto il segnale che proveniva e insieme al Comune, insieme all'ASP, insieme al mondo dell'associazionismo e del volontariato abbiamo messo in campo una progettualità che funzionerà già dalle prossime mesi, una volta esitato il bando che prevede la compartecipazione di questi soggetti ad un programma di prossimità territoriale che si unisce agli sforzi di prevenzione e interdizione delle forze dell'ordine ma che fornisce l'assistenza di prossimità ai ragazzi che fanno uso di droghe, in particolare di crack, alle loro famiglie e alle scuole.